Il soldato Ryan e i suoi uomini sono dunque arrivati al forte nemico, chiamandogli a radio i rinforzi per andare in loro soccorso. Forza uomini! Ma dobbiamo aspettare un altro popolo! I rinforzi staranno per arrivare! Non possiamo fare quasi niente capitano, sono troppo forti i nemici, hanno posizionato posizioni di AMG ovunque. Eccoli capitano, arrivare in forza via aerea! Qui, aereo, ah ah! Sì, mi risentiamo! Ecco, mandiamo le forze via con le cadute! Aspettate per lì! Ecco sì, non preoccupatevi! Eccoci ragazzi, siamo arrivati! Eccoci! Forza, posizionatemi! Io mi metto qui! Bene, spostati! Non mi è più visuale a me! Subito! Io mi metterò qui come posto soccorso! Ok? Molto bene, avevo finito più prima le posizioni di AMG e poi dopo penseremo ad andare avanti! Ci penso io! Ci penso io! Ci penso anche io! Ci penso anche io! Ci no! Inchino! Forza, soldato! Vai avanti! Subito! Ricordiamo noi! Benvenuti! Benvenuti! Pytoli! Benvenuti! la carica capitano 4 4 fatti 2 10 4 4 4 5 5 non fare xd ok andiamo lei da qui non ci vogliamo rimaniamo per darvi su forza ok 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 c'è un nemico che la porta ci penso io ci penso io copritemi ok 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 sono entrati, ripeto, sono entrati ok polizioni, ci hanno scoperti forza, preparati ok entriamo, entriamo trrr 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 trm trrr tr varia vvengis eğ il su Ip! Piazzata, fuoco! Che cosa sta succedendo qui dentro? Ghis! Oh! Bene, uomo! Alzate, venite qui dove siamo noi! Eccoci, capo! Che massacro, capitano! Lo so, dirà l'importante che ce l'abbiamo fatto! Beh, il forte è nostro! E vai! Ce l'abbiamo fatta!